Immagina di avere poco più di 20 anni ed essere appena stato ammesso a Princeton, una delle più prestigiose università del mondo, dopo aver appena finito il college all'MIT. Immagina adesso di avere attirato l'attenzione perché non ti sei limitato a passare il test di ammissione. Nah, quello era fin troppo facile, ma hai ottenuto invece un punteggio perfetto nel test di fisica, 100%, una cosa mai accaduta prima, considerata impossibile. E hai portato a casa anche un punteggio inverosimile nel test di matematica. La gente parlotta di te alle tue spalle quando passi nei corridoi dell'università. Ma sei abituato all'attenzione? È da quando hai imparato da solo il calcolo differenziale, la trigonometria e l'algebra avanzata che la gente parla di te. Avevi 15 anni. Immagina di aver impressionato anche il corpo docente a tal punto che il preside di facoltà di fisica scrive lettere di nascosto ad altri membri della facoltà chiedendo di te il nuovo arrivato e preoccupandosi del fatto che sei ebreo. Del resto è il 1939. Immagina di andartene sempre in giro con un quadernetto sotto braccio sul quale pretendi di risolvere da solo tutti i problemi di fisica e di matematica che ti capita di studiare perché non sopporti che ti diano le soluzioni. Vuoi arrivarci da solo. Sulla prima pagina del quadernetto hai scritto «Quaderno delle cose che ancora non so». Al primo seminario che tieni si siedono in aula davanti a te Albert Einstein, Wolfgang Pauli e John von Neumann e ti ascoltano con attenzione. Bene, se sei riuscito ad immaginare tutto questo, adesso sai cosa vuol dire essere un giovane Richard Feynman. Il prodigio, il genio, l'uomo che ha stravolto la fisica moderna, che ha partecipato al progetto Manhattan, vinto un premio Nobel, ispirato generazioni di divulgatori scientifici con la sua passione per l'insegnamento e la comunicazione, tanto da venire definito di «great explainer». Feynman aveva un modo di pensare, di insegnare e di studiare originale, brillante, unico. Anche nel campo dell'apprendimento efficace ha fatto la differenza, dimostrando come la comprensione abbia sempre la priorità sulla memoria. Oggi, in questo video, parliamo della tecnica di studio di Richard Feynman. La prima volta che viene descritta quella che verrà poi chiamata la tecnica di Feynman è il 1993 e lo scrittore James Glake sta scrivendo la biografia di Feynman, morto cinque anni prima. E durante le sue ricerche rimane impressionato dal modo in cui il grande fisico affrontava la preparazione dei suoi esami proprio a Princeton. Feynman si immergeva a livello ossessivo nei problemi che stava affrontando. Decostruiva e riorganizzava le sue conoscenze, riscriveva, faceva schemi, disegni, immaginava di insegnare ad altri quello che stava imparando, si metteva alla prova. Un intero universo di apprendimento che si era creato da solo, più che un metodo, un vero e proprio modello mentale. La tecnica di Feynman ha come scopo fondamentale la comprensione e la rielaborazione, l'approfondimento, il fare proprio all'informazione davvero, sviluppando conoscenza e competenza, non limitandosi a fare i pappagalli. Ma andiamo con ordine. La tecnica di Feynman in realtà è piuttosto semplice da spiegare, capire e applicare. Questi sono i passaggi. Step zero. Prima di tutto Feynman, come dicevamo, tentava da solo di risolvere ogni genere di problema, ma non si accontentava di trovare la soluzione sul libro pronta e impararla. Prima ancora che studiare, quindi, veniva il momento della sfida, del puzzle da risolvere. Nel caso si bloccasse e non riuscisse più a procedere, Feynman sbirciava un paio di passaggi per capire quale fosse la direzione giusta da seguire e poi tornava a darsi da fare da solo. Cito una sua frase. Questo è il modo in cui studio. Cerco di comprendere qualcosa lavorandoci sopra, creandolo in un certo senso. Non creandolo al 100% ovviamente, ma partendo da un suggerimento su quale direzione prendere senza memorizzare i dettagli, scoprendoli da solo. Questo step zero è un invito a prendere il controllo dello studio in modo attivo, a non subirlo come semplice intento nozionistico. Feynman marcava sempre la differenza tra il sapere davvero una cosa e conoscerne soltanto il nome. Una volta fatto questo sforzo di indagine che costituisce la base della comprensione, è il momento di passare alla tecnica vera e propria. Step 1. Prima di tutto prendi un foglio di carta e comincia con l'identificare chiaramente di che cosa stai parlando, scrivendo un titolo preciso. Questo è un passaggio molto semplice, come ovvio, ma meno scontato di quello che potrebbe sembrare di prima a Kito. Feynman sa che è molto facile perdersi quando si schematizza o si riassume, e riconosce quindi l'importanza di autoimporsi dei limiti, una strada da seguire. Stiamo parlando di questo, non di quest'altro. È un concetto molto simile a quello dell'idea centrale delle mappe mentali di Buzan o della focus question di Novak per le mappe concettuali. Insomma, se non sai esattamente da dove stai partendo, non sai neanche dove vorrai andare. Step 2. Scrivere su questo foglio una spiegazione dell'argomento in questione, immaginando di dover spiegare quel concetto a qualcuno che non soltanto non sa nulla, nulla di nulla di ciò che stiamo studiando, ma non ha neanche grandi risorse intellettive e di attenzione. Un bambino. Per poter spiegare qualcosa di complesso, come un concetto avanzato di fisica, di matematica, di ingegneria, ma anche di storia, di letteratura, di filosofia, ad un bambino, bisogna per forza di cose sfruttare un linguaggio semplice, pulito, chiaro. Bisogna essere rapidi e sintetici, e attirare l'attenzione del bambino stesso con metafore, storie, disegni, diagrammi. E poi bisogna concretizzare il tutto con esempi. Questo passaggio è brutale, perché costringe lo studente a riorganizzare ciò che sa a un livello quasi inimmaginabile. Solo l'ordine, la chiarezza e la comprensione assolute, supreme, della materia consentono di raggiungere quel livello di semplicità. Nello sforzarsi di ottenere tutto questo, l'argomento si chiarisce e lo studio si consolida. Step 3. Riguardare il tutto ed individuare le falle, gli errori, i ragionamenti inconsistenti, i passaggi ancora troppo oscuri. Ritornare alla fonte, che in questo caso può essere il libro, gli appunti, le slide del professore o qualsiasi altra cosa, e sistemare il tutto riscrivendo dove necessario, aggiungendo note, integrando, modificando. Continuare così finché quella nostra spiegazione, quella nostra ricetta non è davvero perfetta. Step 4. A questo punto bisogna sviluppare una storia, una narrazione di quella stessa spiegazione, impersonando davvero il professore o l'insegnante ed esercitarla, magari anche spiegando davvero qualcosa a qualcuno, mettendosi alla prova, passando all'azione. In questo modo si ripassa, si testa, si ricorda. My theory is that the best way to teach us to have no philosophy is to be chaotic and confused in the sense that you use every possible way of doing it. Questo è il cuore della tecnica. Come vedi, è davvero molto semplice. La differenza qui non la fa l'uso di chissà quali strategie complicate, bensì l'atteggiamento con il quale svolgi questi passaggi. Si può combinare e modificare comunque questa struttura in mille modi. Io voglio segnalartene tre nello specifico. La prima variante è semplicemente la versione orale, senza mettersi a scrivere, ma provando a raccontare e spiegare ad alta voce. Si può farlo anche con una persona che ci ascolta davanti allo specchio o registrandosi con una telecamera ed è quasi altrettanto efficace. È un po' quello che faccio io ogni volta che mi metto a realizzare un video per voi sul mio canale. La seconda variante consiste nel combinare la tecnica di Feynman con il principio del KVL di cui ti ho parlato in questo video. Vai a recuperartelo quando abbiamo finito qui, così da farti un'idea precisa di come fare. E infine c'è la sostituzione dello stile discorsivo e riassuntivo sfruttato dallo stesso Feynman con la schematizzazione, ancora più sintetica e ancora più efficace. Perché questa variante però possa funzionare, è assolutamente necessario che tu comunque ti immagini il discorso che faresti se fossi un insegnante, perché parte dell'efficacia della tecnica di Feynman è proprio nel superamento di questa difficoltà comunicativa. Bene, detto tutto questo, che cosa ne penso di questa tecnica? Ha senso inserirla nel proprio metodo di studio? Partiamo col dire che, a mio modo di vedere, la tecnica di Feynman resta forse il singolo strumento più potente ed efficace di comprensione e rielaborazione mai pensato. Non ha paragoni in termini di efficacia, è inutile che ce la raccontiamo. Tuttavia, io non la consiglio come metodo base da usare nello studio di tutti i giorni, per via, purtroppo, della sua lentezza. Eh già, perché la tecnica di Feynman è lenta, 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 quantomeno se non avete il cervello di un fisico rivoluzionario e diventa quindi del tutto improponibile sfruttarla sull'intero programma di un esame. Semplicemente, non ce la si fa, come già raccontavo in questo video sulla sfida di Scott Young. E allora, a mio modo di vedere, la tecnica di Feynman va sfruttata nel tuo metodo di studio in due modi differenti. Per prima cosa, come arma segreta, extrema razio, strumento da sfoderare solo quando ti scontri con un singolo argomento dalla difficoltà devastante. Quando ti blocchi, non capisci, non riesci più ad andare avanti, quando tutto il resto sembra fallire, allora è il momento di ricorrere alla tecnica di Feynman in tutta la sua potenza e lentezza. In secondo luogo, la devi interpretare come un atteggiamento da fare tuo e con il quale guardare l'intero processo di apprendimento. Un atteggiamento composto di curiosità, ricerca, indagine, desiderio di risolvere i problemi in prima persona, rifiutando la pappa pronta. E poi, semplificazione e sintesi. Insomma, fatti contagiare dallo spirito di quel burlone di Richard Feynman, che tra l'altro era noto qualche volta anche per fare scherzi piuttosto antipatici e per non essere proprio un tipetto facile, e prova invece ad emularlo in tutti gli step che ti ho descritto solo quando è strettamente necessario. E adesso, visto che la spiegazione è venuta abbastanza breve, sono molto fiero di me per questo, e visto che il video che ho fatto qualche settimana fa su Bruce Lee pieno zeppo di citazioni è andato benissimo, vi è piaciuto, allora ho deciso che vi sparo una carrellata di pensieri intelligenti sull'apprendimento direttamente dalla penna e dalla voce di Richard Feynman. Li trovi dopo la sigletta di chiusura. Ma lascia adesso un mi piace, una condivisione, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e fammi sapere che cosa ne pensi. Io sono Alessandro De Concini e questo è ADC 2.0. Ti parlo tutti i giorni di apprendimento, metodo di studio, cognizione, fisica teorica... No, ecco, di fisica teorica no. Sulla mia pagina Facebook, Alessandro De Concini ADC, su YouTube, su Instagram, sul mio blog, e sull'internet tutto. Ci vediamo domani per il prossimo video, e nel frattempo studia come Richard Feynman e ascoltati le sue citazioni, che arrivano fra tre secondi esatti. La persona che dice di sapere cosa pensa, ma non è in grado di esprimerlo, generalmente non sa davvero cosa pensa. Il vero problema della comunicazione verbale non è la precisione del lessico, il problema è la chiarezza del lessico. Il desiderio deve essere quello di comunicare l'idea chiaramente all'altra persona. Ciò che non posso creare, io non lo capisco. Sappi come risolvere ogni problema che è mai stato risolto. Dobbiamo sicuramente lasciare spazio per il dubbio, altrimenti non c'è progresso e non c'è apprendimento. Non si può imparare senza porre delle domande, e una domanda presuppone un dubbio. Le persone cercano certezze, ma non esiste la certezza. Quello che può essere capito da un tizio può essere capito anche da un altro tizio. Se continui a dimostrare cose che altri hanno fatto, se continui a dimostrare cose che altri hanno già dimostrato acquisendo sicurezza e aumentando la complessità delle tue soluzioni, giusto per divertirti, poi un giorno ti guarderai indietro e scoprirai che hai dimostrato qualcosa che non aveva dimostrato nessun altro. Io non so niente, ma so che qualsiasi cosa interessante se vai abbastanza a fondo. Non capisco quale sia il problema con la gente. Non imparano capendo, imparano in altri modi, ripetendo, roba del genere. La loro conoscenza è così fragile. You ask me if an ordinary person by studying hard would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens. They got interested in this thing and they learned all this stuff. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say, you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. And he's become a scientist.